Buongiorno, allora faccio questo video in macchina, quindi se sentite il rimbombo è la macchina perché oggi ho messo il pacco in macchina visto che è arrivato il corriere e ora vi faccio vedere quello che mi è arrivato questo diciamo che è un altro regalo di compleanno inaspettato che mi ha fatto la mia amica Marina Marina Gianello che vi metto tutti i link sempre in box informazioni, mi raccomando guardateci ho appena fatto una foto, benissimo, non è possibile e mi ha mandato una scatola gigante, cioè scatola, scatola, scatola enorme, prende mezza macchina praticamente con scritto ciao e ora divertiti e ora vi faccio vedere quello che mi ha mandato allora, è un misto lana, è un chilo, cioè vorrei sottolineare che è un chilo di filato, misto lana sottile cioè è stupenda questa lana, è bellissima, è sottile veramente ma è meravigliosa cioè questo fucsi è bellissimo, questo solo vede la miserella, sicuro ci vuole qualcosa questa è bellissima, bella ah ce n'è un altro gomitolo, ecco questo si vede benissimo cioè ma qui ci si fa veramente delle coperte, magari mettendo due capi insieme o tre capi addirittura, cioè bellissimo poi, vediamo tutto ah non fate caso al casino che c'è in macchina ma comunque dietro questa macchina che è troppo piccola ci si sta malissimo allora, poi cioè praticamente il colore predominante di questo regalo è il fucsia e quindi perfetto poi 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 poi, vediamo questa è pelosina, no questa è bellissima è sottilissimo ma questo abbinato al quel filato lì secondo me fa un effetto della madonna bellissima questa ruzzola pelosina e mi sa che anche questa è uguale, sono 480 grammi sì, è tutta lana pelosina cioè questa è lana praticamente è lana e moer ed è bellissimo dovete sapere che il filato che ho preso nel precedente non che ho preso, non ho preso niente che mi ha regalato e che avevo fatto il video che ora ve lo metto qua su nella ID informazioni mi raccomando andate a vederlo perché c'è delle chicche pazzesche ci ho bello e fatto un poncho peccato che ho finito il filato e non ho finito il poncho però credo che con questo fucsia particolare ci posso creare un inserto per poter finire la parte davanti quindi qualcosa ci inventerò è comunque bellissimo, stupendo e mi piace da morire io adoro il fucsia poi cioè veramente una pazza scriteriata partiamo con il viola sempre lana molto sottile anche questo è misto lana è molto sottile, molto bello secondo me di questo bellissimo viola sono 620 grammi cioè io veramente il bello è che ora ho appena fatto un ordine su Tessiland di altre cose io penso che tasera quando porterò queste cose in casa Alessio sverrà penso che le lascerò in macchina perché le porterò su domani a sua insaputa tanto lui non vede i miei video quindi comunque è bellissimo è un viola un pochino più acceso rispetto a quello che si vede no no ecco il colore è questo perfetto quindi top va benissimo c'era un cambio pensavo che stessero aspettando me a meno male che terrore poi vediamo dove lo posso appoggiare qui poi ho preso mi ha regalato questa rocca gigante che io credo siano mezzo chilo ma forse qualcosa di più di questa fettuccia di cotone questa è meravigliosa io penso che quando questa qui la vede la mia sorella ci vuole sicuramente qualcosa è una fettuccia non è una fettuccia scusate non è fettuccia è un filato composto da tre fili più un lame stupendo cioè ve lo può vedere così che si avisce di più e allora è vivo è viva questa ruzzola cioè top bellissima può fare un profumo questa roba io non so lei dove la tiene però tutto profuma di profumo questa è bellissima veramente top io penso che qui ci farò tipo uno scialle o una mantella o non so cosa perché il discorso è questo se io ero magra avevo un sacco di progetti da poter fare taglia 46 44 42 ma tanto puoi chi le porta e quindi penso preferisco realizzare scialle sciarpe mantelle poncio il poncio sta bene un po' a tutte cioè il terrore è arrivigente per me ma insomma poi qualcuno mi sta chiamando non voglio sapere chi è va bene mi sa che risponderò se dove eravamo rimaste io spero di saper unire i video dal telefonino altrimenti sarà una tragedia comunque continuiamo veloci perché o basta che io sia non in ufficio e soprattutto questa è la mia ora di pausa tendo a sottolineare ora per modo di dire perché è il tocco e mezzo e quindi mezz'ora di pausa praticamente eravamo rimasti a questa mega rocca di lame cioè vogliamo parlare di questa mega rocca di lame cioè io sono sconvolta sconvolta questo è un chilo almeno cioè io veramente veramente sconvolta poi mi ha mandato questa anche questa è stupenda no questa è troppo forte cioè questo si oh ero stata io scusatemi questo si lavora con i ferri sicuro l'avevo anche visto in qualche video di qualche ragazza che ora non mi ricordo chi fare dei video dove facevano vedere come si lavorava questa questa fettuccina che come potete vedere è fatta così effetto trina io penso che si lavori dentro a questi buchi qui 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 e secondo me viene un effetto volant molto bello qui ci fa una sciarpina estiva sicuro stupenda poi 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 mi ha mandato un po' di fettuccia ah ancora lame ma io voglio dire ma è una pazza scriteriale questo lame viola stupendo meraviglioso comunque con una mano è impossibile fare i video impossibile praticamente cioè pazzesco sop 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 poi una rocca gigante questa è lana per forza questo è uno stoppino di lana in diverse dimensioni è bellissimo questo è veramente bello questo è stupendo e io ho un filato di pelliccina che secondo me ci sta da addio o anche senza niente questi qui sono i nominativi dei filati cioè ma poi d'una morbidezza pazzesca cioè veramente top poi mi ha mandato vediamo e poi partiamo con tutta la fettuccia ah ma mi ha mandato un po' di fettuccia praticamente mi ha chiesto se io usavo la fettuccia e siccome ho visto un sacco di cose molto interessanti che si può fare con la fettuccia per esempio le ciabattine da estate che ho intenzione di fare se mi riesce ma la mia intenzione è fare tipo i cestini i cesti da bagno i cesti da camera cioè secondo me qui ci si può sbizzarrire allora c'è questa fettuccia color ottanio color tiffany che ora qui sembra azzurro ma è color tiffany bella 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 poi c'è questa qui che è effetto marinaretto molto carina questa molto carina poi queste fettucce vediamo se si va in ordine questa che è color avio e questa è stupenda cioè ma guardate che trio top è questo 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 e questo stanno veramente bene insieme o questo e questo anche poi questa fettuccia color marrone che è stupenda veramente bella è un color torto adora questa bella abbinato con bel colore come questo giallo come un bel corallo poi c'ho questa rocca di giallo fluo sembra più verde ma è proprio giallo fluo poi questa fettucina molto strana molto particolare che è così vedete tipo bottonata non so come si chiama in realtà molto carina questa qui all'uncinetto secondo me ci si fa delle cose carine poi queste che sono tre no c'è questa color corallo questa è meravigliosa questa è licra è stupenda poi questa color fucsia questa è cotone invece e qui c'è un inizio di un progetto vedete un inizio di una borsa che io adoro praticamente poi questa rossa anche questa è bellissima anche questa è cotone e poi c'è questa stampata che è meravigliosa cioè questa è bellissima secondo me cioè questa è proprio bella bella e particolare cioè stampata a questo modo adoro adoro questo è quello che mi ha mandato quella pazza di marina cioè da notare tutta la pauliera cioè tutta a metà macchina praticamente pieno di filati cioè io non so dove mettere tutto ciò ora metterò tutto nel garage stasera perché penso che Alessio potrebbe svenire o buttarmi fuori di casa penso se gli porto su altri gomitoli secondo me si suicida e comunque io la ringrazio tantissimo ancora come sempre mi raccomando guardate sulla sua pagina perché lei ogni tanto fa delle svendite o comunque degli app dove lei vende quello che ha praticamente che non usa e poi veramente andate a vedere quello che fa perché fa dei mosaici con il fimo stupendi secondo me e quindi top fa le scatoline rivestite con le piastrelline in fimo che io adoro quindi veramente brava io la ringrazio ancora tantissimo c'è un'altra panoramica su questo fucsia che è meraviglioso cioè questo è un messaggio privato per la mia sorella cioè qui ti ci tiro fuori qualcosa di spettacolare mi sa spettacolare per l'inverno una bella sciarpona fucsia top sì per l'inverno perché penso non avrò mai tempo di finire queste cose per l'estate magari la fettuccia o qualcosa ci sconquinfero e poi ve lo faccio vedere il prossimo video e ve lo giuro perché stasera lo giro è delle creazioni che ho fatto con le borse praticamente tra stasera e domani lo giro borse estive poi tutto quello che ho fatto di invernale ve lo faccio in un video a parte e vi faccio vedere tutte le borse che ho realizzato e che voglio portare ai prossimi mercatini niente questo è quanto una decina di minuti ora basta perché io penso che dovrò tornare in ufficio e niente noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate e date un'occhiata alla pagina di Marina e mi raccomando condividete il video perché io adoro vedere gli spacchettamenti e spero che anche voi vi siete divertite e basta alla prossima ciao ciao